Argomento di oggi, decolorazione. Oggi vi faccio vedere la decolorazione utilizzata a 10, a 30 e a 40 volumi. Vi dico subito che verrà spattato il mito della decolorazione a 30 e 40 volumi per arrivare a un bel biondo. In questo momento sto applicando una decolorazione sulla prima ciocca di 10 volumi, sulla ciocca centrale di 30 volumi e sulla ciocca di destra applicherò una decolorazione a 40 volumi. Tantissimi parrucchieri sono convinti che per ottenere un bel biondo bisogna partire con un decolorante a volumi molto alti. Ma questo è assolutamente un mito da sfatare perché più il decolorante lavora con un ossigeno ad alti volumi, più il danno sarà grande, più la forza sarà violenta della decolorazione e le cuticole e le squame ne restano sempre danneggiate. Per fare questo video ho utilizzato delle ciocche di capelli naturali, base 5 brunette e ho applicato nella ciocca di sinistra una decolorazione a 10 volumi, nella ciocca centrale che sto chiudendo in questo momento una decolorazione a 30 e nella ciocca di destra una decolorazione a 40 volumi. Ho poi chiuso bene le cartine e l'ho lasciato in posa per 20 minuti, non di più, senza assolutamente nessuna fonte di calore. Dovete pensare che la decolorazione lavora a un pH 11, a 11 e mezzo troviamo la crema depilatoria, quindi bisogna stare veramente molto attenti quando si fa questo servizio. Qui vediamo la cartina dei 10 volumi dopo 20 minuti di posa e c'è già una bella schiaritura. Poi quella a 30 volumi dopo sempre 20 minuti di posa e vi faccio vedere subito il risultato. Potete già vedere che non c'è gran differenza tra il 10 e il 30. Dal 30 al 40 questa è la schiaritura. Ho poi sciacquato le ciocche, le ho asciugate e ho messo uno shampoo antigiallo. L'ho poi spalmato bene, lasciato in posa 10 minuti sulle cartine e sono andata poi a risciacquarle tutte quante. Ed ecco il risultato finale. Questa è la decolorazione a 10 volumi, vedete la ciocca è intatta. Ho ancora un bello spessore, la ciocca non è rovinata. Qui vediamo la decolorazione a 30 volumi, ecco che lo spessore è molto molto più sottile e non riflette bene la luce. E qui abbiamo il 40 volumi e praticamente la ciocca è molto molto più fina e non riflette la luce. La differenza di decolorazione da 10 al 30 e 40 vedete è veramente minima, quindi cosa vale la pena fare? Decolorare sempre a 10 volumi, perché a 30 e 40 vi lasceranno i capelli molto fini e molto disidratati. Sfatato il mito della decolorazione ad alti volumi, mi raccomando non fatelo a casa e rivolgetevi sempre a un colorista esperto per la salute dei vostri capelli. Ciao!